La tradizione racchiusa in un croissant. La famiglia Baribi produce cornetti e trecce da quattro generazioni. Era stato il bisnonno Piero ad aprire la prima pasticceria a Stocchetta. Le generazioni successive hanno ampliato l'attività, fino ad arrivare alla nascita dell'azienda Baribi nel 2003 e il recente ingresso della quarta generazione. Oggi l'azienda, che ha sede a Bovezzo, produce giornalmente 65.000 croissant nello stabilimento dove lavorano 37 dipendenti. Negli ultimi tre anni la Baribi ha mantenuto un trend di crescita positivo attestando il suo fatturato intorno ai 6 milioni di euro l'anno. Seppur la produzione sia industriale, la qualità dei prodotti sfornati rimane artigianale. L'obiettivo attuale è quello di espandersi e aumentare la produzione giornaliera. Le materie prime che impieghiamo nei nostri croissant sono materie prime di qualità, selezionate da noi tramite la certificazione dei fornitori e i nostri fornitori sono principalmente italiani, alcuni anche locali. Si comincia con i primi lieviti fino a quando il croissant viene confezionato, ci impieghiamo tre giorni. I passaggi principali della nostra lavorazione sono i lieviti, per cui è un lievito madre che viene mantenuto e rinnovato dai nostri lievitisti. Dopodiché la ricetta viene impastata, vengono formati croissant fatti lievitare, dopodiché decorati, cotti e confezionati, il tutto su tre giorni lavorativi. Quello che differenzia il croissant Ambaribi dagli altri prodotti sta principalmente nella lavorazione, quindi come viene trattata la materia prima nel rispetto dei tempi di riposo del croissant e tutto è stato ispirato dal tentativo di creare una sorta di colazione del bar. Questa è la visuale dell'ultima generazione che con la stessa passione di sempre porta avanti l'azienda familiare con un occhio all'innovazione e al futuro.